Per quello che la squadra aveva espresso nel primo tempo, nonostante che siamo andati in svantaggio dopo un minuto e cinquanta secondi, mi sembra di aver visto su questa così un po' incertezza, no? Poi la squadra secondo me ha fatto veramente uno dei primi tempi più belli. Forse ecco, la partita col Trapani avevamo creato così tante occasioni da gol, con veramente veemenza, con convinzione, con fluidità di manovra. Ecco, forse lì c'è mancato un pizzico anche di fortuna, forse anche di cattiveria, no? Bisognava chiudere, bisognava andare in vantaggio perché lo meritavi, perché c'erano i presupposti. Abbiamo preso gol in quel momento in cui stavamo un attimino, abbiamo fatto dei cambi, stavamo un attimino su questo angolo, siamo stati veramente un pochettino disattenti. Ecco, purtroppo quello che ho detto alla squadra, quando le partite non le puoi vincere non le devi perdere, perlomeno non le devi perdere in questo modo. Abbiamo perso di lucidità, abbiamo perso di lucidità, sapevamo che eravamo sotto e forse sono mancate anche un pochettino le energie per quello che avevamo speso prima per andare a riacciuffare e quindi certe giocate erano più individuali, no? Che non di squadra. Ripeto, peccato perché avrei preferito perdere meritatamente contro una squadra che magari ti rimostrava di essere superiore. Oggi mi piacerebbe dire che forse abbiamo fatto tutto noi.